il suo cane tommy jennifer chiuse il telefonino e guardò il vecchio cane tommy dall'altra parte della stanza che era salito furtivamente sul divano e se ne stava appoggiato sui cuscini jennifer gli parlò con la debita collera dicendogli che era un birbante un opportunista una offesa per i cani che appartenevano alla stessa anima gruppo cui apparteneva il suo cane fece una pausa significativa un cane molto cattivo a quelle tre temute parole tommy appiattì contro il cranio le grandi orecchie triangolari e scoprì i denti in un sorriso di scusa agitando la punta della coda commossa da quelle muine tese a ottenere il solito perdono jennifer sorrise e gli accarezzò la testa ossuta poi lo fece scendere con la promessa di una uscita così il vecchio tommy scese dalla poltrona e attese dimenando la coda poi seguì jennifer fino alla porta quando jennifer aprì il battente tommy le passò davanti e uscirono nel pomeriggio caldo mentre camminava dietro tommy jennifer pensò al sentimento di compagnia che la legava al suo cane in cor suo augurò alla sorella che viveva da sola e depressa di riuscire a costruire una vita migliore con la cagnetta che lei le aveva regalato il giorno prima tommy aveva colmato la solitudine di jennifer ed aveva sorretto il castello della sua vita dopo che il compagno l'aveva lasciata dopo sette anni di convivenza per mettersi con una più giovane di lei con cui aveva fatto un figlio si per jennifer come dice il cerchio ifior il suo cane tommy era un archetipo transitorio una parte della coscienza assoluta che in questa incarnazione era molto vicina a lei